Noi oggi iniziamo proprio con una grande donna che ci racconterà una storia, la sua storia. È una caregiver, si piace essere definita alleata di persone con disabilità, presidente della fondazione Fight the Stroke, che ha fondato con il marito Roberto. Una fondazione che supporta la causa dei giovani sopravvissuti all'ictus e con paralisi cerebrale infantile, come il loro piccolo Mario. La storia è stata raccontata una decina d'anni fa al TED Global di Edimburgo e questa storia è diventata virale, ha fatto il giro del mondo. Nel libro che racconta la loro storia, lei scrive così Mario non guardava gli esercizi, guardava noi genitori così concentrati a insegnargli l'autonomia che ci eravamo dimenticati di trasmettergli la gioia di vivere. Allora abbiamo cambiato prospettiva. Se volevamo il meglio da nostro figlio, dovevamo dare il meglio di noi. Francesca Fedeli Buongiorno a tutti. Beh, Chiara ha già anticipato il contenuto della mia storia. Io oggi, vediamo se funzionano qui le slide, che è sempre una grande incognita, forse troppo. Io oggi vi parlerò appunto della mia storia di caregiver, di come è nata, di come sono diventata caregiver e di come si sta evolvendo. Questo che vedete nella prima immagine siamo io e Roberto, mio marito, era alcuni anni fa e in realtà appunto la nostra vita, come credo quella di molti di voi, è divisa fra diversi prima e diversi dopo. Il mio diverso prima è stato una vita in cui abbiamo rincorso gli obiettivi aziendali, abbiamo lavorato per raggiungere il quadro, la dirigenza, cercare di avere un team da gestire. Ci sembrava che in quegli anni davvero fosse fondamentale come obiettivo di vita raggiungere questi obiettivi aziendali. Ma poi a un certo punto ci siamo resi conto che appunto alla soglia dei 40 anni avevamo voglia di mettere su famiglia. In realtà, e lo chiamiamo così anche nell'allenamento questo capitolo, mettere su famiglia non è stato proprio una passeggiata, è stato un susseguirsi di eventi che andavano da una serie di aborti ripetuti, di incidenti, addirittura di una lettera di un tribunale che mi veniva recapitata a casa e mi diceva che io non sarei mai stata una madre adatta ad adottare un bambino. E quindi ci siamo preparati così a quella che poi in realtà è arrivata. È stata la notizia di Mario, nostro figlio, che sarebbe arrivato, però in un circuito di eventi sicuramente non positivi, e in un circuito anche fatto tanto di malattia, di gravidanza vissuta come malattia, a letto, in ospedale. Poi in realtà è stato questo il primo momento con cui ci siamo messi un po' alla prova con quello che erano gli ospedali. Prima da allora davvero nella nostra vita ci era capitato pochissime volte di intercettare la malattia o la disabilità. E allora il 13 gennaio del 2011, quindi ormai quasi 14 anni fa, è nato Mario e da qui è iniziato un po' il nostro dopo. Vi dicevo l'ingresso di Mario nella nostra vita è stato dapprima così per me, l'ho visto attraverso una foto. Lui era ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale ed è stato il primo momento in cui non solo ci siamo messi un po' alla prova con il mondo degli ospedali, ma è il primo momento in cui abbiamo sentito parlare anche di checklist. Ogni tanto arrivava qualcuno da noi e ci diceva, ma sì, ha un indice di Apgar fra il 7 e l'8, ma è giusto. La mamma non ha mai bevuto o usato droghe in gravidanza, ma quindi è giusto, sta andando tutto bene. Però in realtà abbiamo capito che appunto queste checklist non controllavano tutti i parametri. E così a dieci giorni dalla nascita un medico è arrivato da noi sempre in questo reparto, quindi un reparto fatto di tanti suoni, tanti bip, tanti rumori. E questo medico ci ha dato quella che per noi è stata la notizia che ha fatto un po' da spartiacque rispetto a un prima e rispetto a un dopo. La notizia era che Mario aveva avuto un ictus, uno stroke, un ictus perinatale, quindi non si sapeva esattamente quando era avvenuto, ma che però vedete l'entità, aveva preso quasi tutta la parte del suo emisfero sinistro. L'altra cosa rispetto alla quale abbiamo cominciato a prendere le misure è stato anche il modo in cui i medici ci restituivano questa diagnosi. Ci parlavano di statistiche, ci dicevano però queste statistiche, questi dati soltanto in un'ottica negativa. Ci dicevano ma non sappiamo se Mario riuscirà a parlare o a camminare, perché le statistiche ci dicono che l'X% di questi bambini poi non lo farà. E così siamo entrati un po' in questa fase che ancora oggi è tipica delle famiglie che vivono all'interno di una condizione di paralisi cerebrale dei propri figli, perché quello che viene ancora detto oggi è un po' questo messaggio attendista, dire wait and see, aspetta e vediamo quello che succede. Non essendoci una vera cura, ma potendo procedere soltanto con la riabilitazione, anche a noi è stato chiesto di aspettare. E quindi in quei giorni, in quegli anni, le foto che ricordo di quel periodo erano sicuramente foto in cui cercavamo di assecondare i ritmi di Mario, ma dall'altra parte c'era un grande senso di vergogna e un grande senso di fallimento. Beh, vergogna perché l'unica cosa che avrei dovuto fare io era proteggere questo bambino nella mia pancia, e invece non era stato possibile e io non riuscivo a capire il perché. E fallimento perché come genitori avevamo pensato che avremmo creato qualcosa migliore di noi. Invece in quel momento tutto ciò che ruotava intorno a Mario era questo senso di grande protezione, di chiuderci in noi stessi e di cercare di vedere soltanto medici, di cercare di vedere qualcuno che potesse aggiustare Mario. C'è stato un evento all'interno di questa storia che ci fa un po' entrare nel durante della storia, che noi nel libro abbiamo definito mettere la testa fuori dal guscio. È stato un evento al quale noi ci siamo aggrappati, che probabilmente nella vita di altre persone non avrebbe avuto lo stesso significato. Però abbiamo incontrato questo medico che tornava dall'Australia e ci aveva parlato di questa terapia riabilitativa basata sui neuroni specchio. E ci diceva, ma guardate, visto che non possiamo fare molto per cercare di riabilitare, soprattutto l'aspetto motorio di Mario, quindi il fatto che questa lesione centrale gli avesse impedito di usare metà del suo corpo, beh, allora quello che possiamo fare è esporre Mario a degli esercizi in cui altre persone compiono delle azioni. E quindi abbiamo imparato a conoscere questo mondo dei neuroni specchio e di come si apprende per imitazione. Vi dicevo, è stata una scusa un po' perché era qualcosa che teneva a lungo impegnate le nostre giornate, no? Facevamo queste mosse, questi movimenti e aspettavamo, prendevamo tempo. Un altro evento epocale per noi, ma sicuramente al quale noi abbiamo affidato un significato simbolico, è stato all'incirca i tre anni di Mario. Insomma, eravamo un po' stufi di vivere da soli. Volevamo riprendere la nostra vita, che era una vita come quella di tutte le giovani famiglie, fatte di partecipare a eventi, uscire fuori, viaggiare, vivere la vita sociale. E noi l'abbiamo fatto partecipando, volendo partecipare come spettatori a questo evento TED. In realtà poi, per una serie di vicende, ci hanno chiesto come spettatori dell'evento di raccontare una nostra storia in cinque minuti. E allora noi abbiamo detto, beh, sai che se davvero questa storia dei neuroni specchio funziona e Mario può apprendere guardando gli altri, beh, addirittura portiamoci Mario sul palco. Siamo andati a questo evento e la cosa che ci ha più stupito è stato quando siamo scesi dal palco e le persone venivano da noi a dirci, ma sai, anche a me è successa questa cosa, anch'io ho attraversato la malattia e non ho trovato punti di riferimento, non sono riuscita a trovare persone che mi facevano proiettare verso il futuro. E così appunto in quegli anni è nata la fondazione Fight the Stroke. È nata proprio con l'obiettivo di aggregare, riunire famiglie, persone con una disabilità di paralisi cerebrale e cercare di abbinare a quello che era l'obiettivo associativo anche una storia di imprenditoria sociale. Quindi come potevamo cambiare lo stato dell'arte. La prima cosa che ci è stata subito chiara è stata il fatto che ci sentivamo sempre in una relazione di asimmetria con i medici, con le persone che incontravamo tutti i giorni. E allora abbiamo detto, beh, forse la prima cosa da fare è ristabilire le simmetrie, no? Perché ogni volta che io parlo di consumatore, di cliente, so che questo è il centro del processo di tutte le persone che ruotano e che forniscono prodotti per il consumatore e il cliente. E la stessa cosa perché non avviene invece con il paziente? Beh, allora abbiamo detto, ma forse sarà una questione di status. Cominciamo a vestire Mario con il camice da medico e cominciamo a presentarci così agli incontri. Magari è soltanto una questione di ribilanciare i pesi e sapere che questo tipo di strategia ci permette poi tutti di sederci ad uno stesso tavolo. Quello che abbiamo capito è che c'erano persone che erano ingabbiate in delle procedure, in una burocrazia, in dei passaggi che probabilmente andavano scardinati. E quindi ci siamo presi noi l'onere di fare questo processo. Per noi è stato fondamentale dire sediamoci tutti ad un tavolo. Caregiver, genitori, pazienti, persone con disabilità, ma anche medici, ricercatori, innovatori, sviluppatori. Perché soltanto all'interno di questi eventi potevamo tutti avere una prospettiva più completa di quello che serviva per cambiare il settore delle paralisi cerebrali. E così abbiamo cominciato a fare quello che è diventata poi la missione della nostra fondazione. La fondazione FedDestrock oggi raggiunge un migliaio di famiglie in tutta Italia e ha agganci, alleanze in oltre 60 paesi nel mondo. E questo ci permette di prenderci l'onere, di combattere tutto ciò che le altre persone potrebbero avere timore di fare. Quello che ci siamo sempre proposti come associazione, come fondazione dopo, ma anche come impresa sociale, è stato l'obiettivo di cercare di fare qualcosa non soltanto per Mario, ma per tutti i bambini come Mario. Questo ribaltamento di prospettiva ci permetteva perciò di dire ma non vediamo più la figura del caregiver come qualcuno che si incatena il cancello o chiama il giornalista perché non ha abbastanza ore di insegnante di sostegno. Ma quello che volevamo fare noi era combattere la scarsità degli insegnanti di sostegno in modo che tutti quelli che venivano dopo di noi non avrebbero più dovuto affrontare questo problema. Ed è questo che noi chiamiamo ambire al cambiamento sistemico. Quindi cercare di portare una soluzione che non sia esclusiva per noi ma che sia davvero utile a tutti e che sia in grado di cambiare lo stato delle cose. È da qui che siamo arrivati a quello che poi è la mia raccomandazione. Io non ho particolari ricette su come essere un bravo caregiver. Però quello che mi sento di dirvi è che una cosa che ha aiutato noi è stato cominciare a pensare nell'ottica che è anche molto opportunistica se volete che il modo migliore per aiutare mio figlio Mario era aiutare tutti i bambini come lui. E come fare questo? Beh, la cosa principale o forse la cosa più semplice è non rimanere soli. Quindi cerchiamo questi spazi di aggregazione, cerchiamo queste isole come l'evento che ci ospita oggi. Perché davvero il pericolo di una sola storia, di raccontare un'unica narrazione, può essere davvero grande. Il fatto di rinforzare degli stereotipi. Invece il vantaggio di avere delle prospettive multiple, di unirci insieme, soprattutto in un'epoca in cui i cambiamenti sono all'ordine del giorno, ci permette davvero di cogliere tutti i punti di vista e davvero di aiutare ogni bambino come Mario e come i vostri figli. Quindi godiamoci questa giornata insieme. Grazie. Grazie.